Tre persone arrestate e altre 21 denunciate a piede libero per pedopornografia, altri due arresti per crimini informatici, 64 denunce, oltre 600 carte di credito sequestrate, 118 denunce per truffa online. Sono i numeri del 2018 della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Liguria, perfettamente in linea con l'impegno svolto da questa specialità a livello nazionale. Un'attività che passa anche attraverso la prevenzione, come nel caso dei protocolli di intesa, sottoscritti con istituzioni locali, quali l'ARPAL, per prevenire attacchi informatici a siti istituzionali. I controlli online hanno fatto emergere anche nuove mode terrificanti, quali i cosiddetti stupri virtuali attuati da uomini che condividono fotografie di ignare donne ricavate dalla rete, da WhatsApp, dando poi sfogo a fantasie violente e comportamenti offensivi. La recente direttiva del Ministro dell'Interno sui comparti di specialità ha inoltre confermato in capo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, sia a livello centrale che territoriale, le competenze in materia di contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice jihadista in rete. Da evidenziare anche il successo riscosso dalla campagna itinerante Una vita da social, che ha toccato anche il territorio imperiese e grazie alla quale sino ad oggi sono stati incontrati oltre 1.700.000 studenti, 180.000 genitori e 100.000 insegnanti.